buongiorno ragazzi guardate che figata tutto vuoto tutto libero niente tra le scatole niente pressa niente pressanna niente tavoli piazzati a caso tutto di nuovo lo spazio bello libero tutto un po di pulizia così anche l'allungo della squadra che ci sia rivelato giusto perché lasciare avanti un sacco di spazio e non impiccia i listelli sono tutti qua e come ha scritto qualcuno sull'ultima storia la fine dell'inizio in effetti questo è proprio la fine dell'inizio perché adesso vanno tutti lavorati allora io non dovrei essere in lab dovrei essere di là con anna però anna c'ha un attimino da fare quindi io ne approfitto e sono venuto in lab a mettere a posto stavo per mettermi a finire le fresate delle stelli poi ho pensato una cosa ma se io riuscissi a mettere in pista quella senza modifiche solo in pista solo funzionale niente modifiche estetiche per renderla più ficcante solo che funzioni domani potrebbe essere il clean monday più ficcante di sempre o meglio più duro di sempre il clean monday quello proprio da raschiare il pavimento per mettere a posto questa però cosa devo fare usare la batteria e a tal proposito io ho messo sotto carica un paio d'ore fa la batteria originale col mantenitore perché alcuni di voi mi hanno suggerito perché nella notte sono proseguiti i mega i mille consigli capite tutti di elettronica solo io sono il vostro unico a non capirne niente dicevo prima che le campane iniziassero a suonare per 20 minuti di fila per richiamare la gente al tempio che ho messo sotto carica la batteria col mantenitore perché alcuni di voi mi hanno consigliato che la batteria potrebbe essere troppo scarica e quindi l'alimentatore originale della macchina non rilevarne più la carica e quindi non riuscire neanche a partire con la sua carica in effetti ieri la batteria misurava 0 adesso come adesso se io la stacco dal mantenitore la misuro dopo un paio d'ore mi dà 5 volte quindi da 0 a 5 dovrebbe arrivare a 12 o poco più qualcosa si è mosso quindi magari non è proprio proprio morta però ripeto io di elettronica non capisco niente per cui siccome l'alternativa è compara una batteria nuova e io dopo pomeriggio devo andare alla Decathlon ad attrezzarmi per non avere più il golfino d'anziano o mille cappotte mentre lavoro con qualche vestito tecnico e magari anche un bel gilet termoriscaldante come quelli che mi avete consigliato con la carica usb in modo da essere tutto elettrificato tipo demolition man passo anche magari al bricone a prendere una batteria batteria che però è di diverso tipo perché è al piombo sempre che trovo vantaggio giusto e voltaggio giusto e misura giusta per stare all'interno del foro come abbiamo visto ieri però per usare con la batteria il trasformatore dicono le istruzioni avere un micro switch che permette attraverso un pin e varie combinazioni di selezionare che tipo di batteria voglio partire preparato e quindi finisco il caffè smonto l'alimentatore e vedo se c'è questo fantomatico micro switch così se quella batteria si riprende ben venga a posto così se non tiro su una al piombo qualsiasi e ce la sbatto dentro anche un po più piccolina a me tanto questa macchina qua è fatta per mille metri quadri a me non è che serva che vada molto perché lo spazio qua e 250 la maggior parte occupata dalle macchie dal banco quindi non è che mi devi dare chissà quanta carica e se anche è meno performante nel tempo e spendo 70 80 euro di batteria e tra 1 2 3 anni devo cambiarla ci sta piuttosto che spendere 400 euro adesso ripeto l'idea è mettere in pista non fare le modifiche estetiche modifiche estetiche mi sono venute delle idee veramente cretine ma si riuscirà a dagli efficienza però mi servirà una mano sempre in elettronica perché ho intenzione di fare una modifica estetica veramente veramente credina che però richiede elettronica adesso finisco il caffè smontiamo l'alimentatore ok luca pedrazi ha detto che la mia versione in cardigan caffè in mezzo alle macchine fa molto Hugh Hefner nella maison house ci sta di brutto da oggi questa la chiamiamo versione Hugh Hefner bellissima allora sì non con poche bestemmie ma l'ho trovato questo affarino qua ecco perché li chiamano microswitch è proprio micro eccolo qua sv1 come indicato due pin 1 e 2 on e off eccolo qua quindi adesso è l'1 su off e il 2 su on quindi no scusate l'1 su off si l'1 su off e il 2 su on questo qua esatto questa qua adesso si io devo prendere una batteria per auto normale ammesso di trovarla che ci sta qua dentro piombo dovrò portare tutti e due su off se no le alternative si può fare quindi in caso si posso cambiare tipo di batteria che è perfetto vado a risparmiare sul gratuito intanto in tantissimi continuate a dirmi di togliere la batteria dal furgone e prova no la batteria fuori no però potrei togliere la batteria dall'auto di Anna penso che mi strapperebbe le viscere ora io non so quanto devo aspettare qua cioè nel senso so che la sua carica quando ha raggiunto per qua intendo dire la batteria qua dovrebbe essere 12 volte o poco superiore dopo un po' di ore è passata a 5 non so quanto deve essere la soglia minima per fare un test per fare un test sensato di questa di questa roba qua provando a riattaccarla per vedere se va ancora o no se no l'altra cosa che stavo pensando però era più un pensiero estemporaneo mentre ragionavo sul da farsi è se si riesce questa a convertirla a filo c'è tutta l'elettronica sul davanti in questa parte qua c'è l'elettronica che deve arrivare al cavo dell'alimentatore poi mi sta i cavi al motore e tutti alla motore e pompa dovrebbe esserci un motore che è quello che fa girare la spazzola è una pompa che è quella che butta dentro butta giù l'acqua e poi un'altra pompa che la riaspira o forse la stessa pompa però non ha molto senso fare tutto il lavoro per per convertirla a filo tanto poi sarebbe scomoda e la spesa con un'altra batteria è irrisoria una cosa sicura una bella pulita gli va data comunque per tutti i feticisti della porno elettronica questo è come si presenta la scheda al suo interno questo è il cavo che arriva direttamente dall'alimentatore mentre quel cavo lì fa il giro di qua e quindi quest'altro è il cavo che arriva dalla batteria questi qua sono i due poli che arrivano dalla batteria ho anche pensato che io potevo sostituire questi due cavi o collegarli dall'altra parte direttamente col mantenitore di carica o l'alimentatore e andare direttamente con l'alimentatore per farla a filo ma non no vediamo di cambiare la batteria sarebbe indubbiamente più comoda l'altra cosa che mi piacerebbe da qua estrarre 12 volt non saprei dove non saprei perché non saprei neanche se ci sono ma non ci penso certo adesso devo dire che al di là dello sporco che comunque è poco è tenuto per avere più di dieci anni è tenuta straordinariamente bene questa macchina è veramente veramente tenuta bene è praticamente tutto nuovo non c'è neanche troppo schifo all'interno del motore le cose qui ho visto che c'è anche un una valvolina questo è il cavo attaccato al serbatoio di riempimento quel serbatoio acqua e detersivo questo invece è il serbatoio di scarico non so perché siano due questi cavi qua questi tubi qua forse aspira da due parti questo qua dovrebbe poter regolare quanto lo quanto liquido esce o entra sì c'è una pompetta attaccata ma il problema è che tutte queste cose elettroniche intrippano e spesso ha tantissime idee su roba che mi piacerebbe fare con anche elettronica anche soprattutto per il lab o in generale ma poi non ce la faccio vi ricordate il casino con la fac machine che la fatica che ho fatto a saldare tutta quella pc board lì con la demo board lì per poche avevo dimenticato addirittura il pezzo per leggere mp3 il circuitino per leggere mp3 il chip per leggere mp3 vorrei capirci di più a proposito di fac machine due giorni fa inaugurato la beautiful gallery per gennaio organizziamo una gita in massa tutti assieme a vedere la fac machine in in mostra non mi hanno fatto sapere niente magari poi chiedo come sta andando se piace o non piace perché l'ha impiazzata proprio all'ingresso per cui uno entra e spara un merda che caga merda subito e comunque sulla storia dell'elettronica io sono sul pezzo ragazzi perché qui c'è scritto stazione di elettronica prestazione di elettronica si intende una postazione proprio con saldatore fisso sto benedetto alimentatore da banco che prima o poi prenderò che anche quello che mi avete consigliato tutti per provare a risuscitare la batteria ma che io al momento non ora siamo come fa sapere a quanto dovrebbe essere lì prima di poterla testare se no aspetto che arrivi a 12 e non ne parliamo più vado avanti con le fresate mi faccio un altro caffè un altro caffè vado avanti con le fresate tanto oggi è domenica relax c'è nel cane tra i coglioni ecco volevo fare una verifica dato che è attaccato da un due o tre ore e mi sembra che questo comportamento non sia normale cioè ha un decadimento mostruoso è possibile vuol dire che è andata cioè io l'attacco ma fa l'altro avete visto che è bravo non c'è più segno negativo ho invertito i poli cioè è tipo decade solo a guardarla boh ok la mia idiozia si manifesta sempre di più luca mi fa notare che non mi serviva aprire tutto l'alimentatore mi bastava togliere questo tappino qua per accedere direttamente al micro switch eh vabbè quando uno è deficiente a casa mia si dice chi non ha testa ha gambe evidentemente io non ho testa e ho gambe rimonto tutto tanto posso accedere da lì e niente dato il decadimento della batteria direi che è morta già mi state tutti dicendo che è morta ha degli elementi interrotti e non va bene intanto però Diego Small Lab mi consiglia mi sconsiglia di prendere un'auto da batteria da brick ma perché quelle sono batterie da spunto e non batteria da trascinamento il cui loro struttura interna è diversa e quindi non andrebbe bene ma di andare per forza su una batteria di quelle di gruppo UPS che è il contrario esatto di quello che avete detto tutti ieri che andava bene una batteria d'auto quindi a questo punto io sono ancora più confuso ma la cosa più impressionante non è la mia confusione totale su queste cose ma il fatto che tutte le volte che parlo di elettronica e dico che non ci capisco un cazzo arrivo a qualcuno e mi dice scusa ma tu non facevi il programmatore ci mettiamo in testa una volta per tutte che software hardware sono cose diverse che se anche un programmatore opera in un ambito dove c'è di mezzo qualcosa di elettronica non è detto che debba sapere di elettronica è come andare da un idraulico a chiedere se è in grado di fare una conoscopia sempre di spurghi si occupa ma è un'altra roba vabbè ragazzi la batteria l'ho staccata che era accadimento terapeutico come ha detto qualcuno di voi adesso lasciamo lì e poi vedo cerco di capire proverò una batteria di quelle da brick ma se oggi riesco a passare a brick ma se poi non va bene la riporto indietro e faccio il reso non è che la rovino cosa continuo a fare finta di fare il falegname che mi viene meglio che fare l'elettronico l'elettrauto l'elettricista non lo so l'elettronico fresate tutte fatte ad eccezione del top base a e c ho fatto i montanti destra il fianco destra e sinistro che avevano la fresata solo da un lato ok i sei montanti centrali che avevano la fresata fronte retro fronte retro ok così si sgassa pannello e mezzo il top della parte e la base della parte in mezzo che avevano la fresata da un lato solo se non li guardate così uno deve essere girato di 180 ma funziona uguale mancano quelle che sono un po più tricky perché sono le uniche che non sono passanti questa 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 e questa e neanche double fast quindi devo azzeccare esattamente dove si trovano perché dietro qua non inizia ma qua finisce qua non inizia ma qua finisce insomma se sbagliarle è un attimo quindi molto probabilmente le farò domani mattina bello fresco così poi domani aggiuntiamo tutto intanto adesso io voglio andare assolutamente alla dedicata perché qua ne sto sto girando e poi continuate a dirmi tutto questa storia qua della batteria da auto che non è che non funziona funzionerà ma non mi durerà nel tempo io sto cercando di capire se nel tempo vuol dire che la devo cambiare magari tra due o tre anni e allora anziché dieci e allora me ne fotto o se non durerà nel tempo nel senso che poi la carica dura 5 minuti perché se così è no se invece la devo cambiare tra due o tre anni va anche bene perché con una spesa che passa da 400 a 80 voglia se la cambio dopo due o tre anni quanto tempo ho per cambiarla voglio incastrare anche Anna per l'essenza delle ante oggi perché io vorrei ordinare le lunedì se no poi non mi arrivano più perché la questione delle ante è questa allora io reperibili vicino alla sila perché non so perché non ho pensato ad usare un trucciolare laminato magari laminato anche effetto legno dato che quanti venti ci sono beh mi sono messo in testa ad usare un listellare placcato per poi dare io la finitura qua vicino alla sila dicevo io ho disponibile in spessore 18 solo due essenze quindi qua vicino vuol dire che vado le faccio tagliare e le prendo che sono il rovere e il tanganica che anche lui è chiaro ma si presta a più o meno tutte le possibili impregnature varie poi però bisogna impregnarlo e quindi poi si ricomincia con le bestemmie come l'art con le mille prove colore mentre da pace a legnami io ho visto il listellare placcato legno vero ciliegio che è di fatto la finitura originale che ha il mobile a quello della lema almeno nella versione che l'ha comprato i miei perché poi uno può scegliere sia quello del fondo della struttura sia quello del fronte quindi io ve lo ricordo ciliegio e non mi dispiacerebbe ciliegio anche perché in quella posizione lì all'ingresso di fianco ci va un appendiabiti lo Shanghai vi ne avevo già parlato che io vorrei prendere nero perché per me lo Shanghai di fatto deve essere nero essendo un pianto disegnato come un asterisco l'asterisco è nero ma Anna vorrebbe prendere il rovere siccome non ci mettiamo d'accordo vorrei evitare di prendere un rovere anche il mobile di fianco ora è il ciliegio non so quanto mi complichi la vita poi in termini di tempo durata e difficoltà dalla dimensione delle ante 60 per un metro e 50 circa tinteggiare io impregnare io il tanganica ciliegio e non so neanche che effetto abbia il tanganica ciliegio perché a me piacciono le fiammature tra virgolette del tanganica ma non ho un pezzo di tanganica se non questo che però è questo che però è massello e ho solo questo pezzo qua quindi non riesco a tintarlo per fare la prova l'idea è avere un ciliegio quindi se riesco a stringere con Anna magari porto a casa anche questo risultato oggi perché la ragazza su essenze e colori è un dramma vado a vedere a che punto è se ha finito le sue cose casomai Decathlon e Bricot tanto al massimo la batteria la provo se vedo che non va la riporto indietro allora bene ma non bene fare shopping mi distrugge ragazzi preferisco fare 48 mila ore in laboratorio e su di notte lavorare poi di nuovo in laboratorio che andare da Decathlon con la gente che va a fare la transumanza in famiglie di 20 tutti in fila alla cassa cazzo avete preso due cose state in fila alla cassa una alla volta non è che dovete fare tutte le volte come i buoi nella savana e spostarvi mi distruggete comunque bene ma non benissimo cambio di divisa invernale preso non ho preso il giubbottino quello riscaldato perché l'idea di mettere sotto carica il giubbotto anche la sera oltre che il cellulare mi gira alle palle quindi niente giubbottino riscaldato ho preso uno smanicato normale poi una maglietta tecnica sotto giusto per non gelare da mettere sotto la camicia e non la maglietta di paio che incombra da fastidio sono stato al Bricoman e ho preso la batteria ma allora questa è la batteria che ho preso 12 volt come una specifica è 80 ampere ora che sta perfettamente nella forbice di 50-85 700 ampere generale non c'era un'indicazione di ampere generali so che è una batteria da spunto ma ho deciso che va bene così lo stesso PV presumo stia per piombo piombo acido quindi dovrò spostare il deep switch perché non si chiama micro switch ma deep switch il culo mi è già stato fatto su batteria al piombo quindi in modalità off-off e lo farò il problema è che l'unica cosa che non ho fatto caso perché c'erano i tappi di protezione devo comprare dei morsetti non ho comprato i morsetti quindi domani niente super clean monday non ho i morsetti ma soprattutto non ho anche un'altra cosa non ho il detersivo per la macchina che non è un detersivo normale ma è un detersivo che non fa schiuma farò un clean monday normale e poi la metteremo in pista in settimana magari mentre aspettiamo le ante del mobile ante del mobile che siamo venuti finalmente a capo con Anna l'ho pressata tutta in macchina all'andata e tutto in macchina a ritorno ma abbiamo raggiunto un obiettivo siamo venuti qua in laboratorio ha guardato l'ape si è guardato in giro e ha scelto la scelta era o tra il listellare di ciliegio di pace legnami con ordinarlo pagare la spedizione e aspettare che arrivasse oppure il listellare di rovere o il listellare tanganica tinto in qualche modo qua alla sila lei alla fine guardandosi un po' in giro ha scelto lo kumè siamo capiti? non mi va male lo kumè a me piace molto questo è un avanzo che avevo questo però è multistrato lo kumè ora quello che devo capire è se il multistrato va bene per fare delle ante 60x150 o è meglio comunque il listellare per via dell'imbarcamento io temo che il multistrato si imbarchi comunque in settimana cerco di capire perché se no devo capire e comunque se usassi il multistrato ad ogni modo lo borderei col bordo kumè non lo lascerei a vista il multistrato su delle antine non mi piace però sì secondo me ci sta alla fine è un colore carico una volta che ho dato la finitura non bondex qualcosa di più qualitativo le venature salteranno fuori è molto bello il colore la scelta la provo anche se non era tra quelle indicate quindi ora io vado a cercare i morsetti su amazon per la batteria e anche il detersivo per lavapovimenti che non faccia schiuma ci vediamo domani che andiamo avanti col mobile perché è il momento di fare le ultime fresate in mattinata quelle cieche da pensarci un po' e poi finalmente giuntarle e metterle assieme e avere tutta la struttura non penso non so se in giornata avrò già tutta la struttura quella struttura porta parecchie complicazioni per essere montata perché non ho mai fatto una roba smontabile e per tutti quelli che mi hanno scritto un momento che facevo queste storie dicendo la batteria mi sembra larga la batteria non mi sembra giusta non va bene non c'è la misura ancora ancora le misure riesco a prenderle porca di quella porca non è che potete rompere le palle su ogni cosa la batteria è della misura giusta l'unica cosa è che ha i poli positivo e negativo invertiti rispetto all'altra devo solo stare attento a fare collegamenti ci vediamo domani a a i Grazie a tutti.